Lo sport è presentato da Conserva, Trasporti e Logistica. Proprio ai tifosi biancorossi, quindi atteso esodo da parte dei tifosi del Bari. Nel frattempo, da ieri pomeriggio, è aperta anche la prevendita per quanto riguarda i biglietti per Bari Ascoli della prossima settimana. Appuntamento al San Nicola, sabato prossimo alle 16.15. Ne parliamo questa mattina con il giornalista del Corriere dello Sport, Filippo Fasano. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Siedo scusa preliminarmente per un po' di raucedine. Fa niente, fa niente. Ti sentiamo forte e chiaro, Filippo. Grazie per aver accettato il nostro invito. 080 501 4668 è il numero per intervenire in diretta. Noi, come sempre, però cominciamo con la rassegna stampa partendo proprio dal Corriere dello Sport che titola Dorval studia da grande, Bari vado al massimo. Mi ispiro a Cansello e Quadrato ma ho sempre avuto l'attitudine a cercare il dribbling e il gol. Non vedevo l'ora di dimostrare le mie qualità. Intanto Mallamo decide la partitella in allenamento e come detto in 3.000 o più sarà esodo bianco-rosso a Venezia. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Inevitabile Dorval in prima pagina a livello sportivo. Bari c'è Dorval in corsia di sorpasso. Pensavo di non essere all'altezza. Ha parlato ieri in conferenza stampa il terzino bianco-rosso. Non è stato facile. La di un altro mondo. Tutto merito del tecnico e dei compagni. Passiamo alla Repubblica. Dorval e gli assist da primato. Il Bari ha il suo jolly in difesa. Un anno fa giocava in Serie D a Cerignola. Domenico è stato decisivo il suo contributo in tre dei sei gol segnati al Brescia. Scendere in campo davanti a tutti quei tifosi non è facile. Tutti mi hanno aiutato. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno. Quel francesino che piace a Mignani. Dorval fino alla B sempre di corsa. Dal Fasano al Bari passando per il Cerignola. Il giovane terzino ha scelto la Puglia per affermarsi. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Dorval scalata compiuta con questo gruppo super. Tutto diventa più facile. Colbreccia ha giocato dall'inizio e si è fatto apprezzare. Adesso lavoro per fare meglio nella fase difensiva. Noi abbiamo anche uno stralcio della conferenza stampa di ieri pomeriggio di Dorval. La sentiamo e poi la commentiamo insieme. A sinistra sono un po' più meglio sul uno contro uno. Però a destra per me è la stessa cosa. Prima quando ero piccolo facevo l'esterno a sinistra. Quindi avevo già la tecnica di saltare l'uomo. Non è facile perché quando passi dalla serie D alla serie B c'è un salto enorme. Io all'inizio con l'intensità stavo un po' in difficoltà. Poi i miei compagni mi hanno dato fiducia, mi hanno parlato. Mi davano sempre la forza di crescere ogni giorno. Adesso sto un po' più tranquillo. Stavo molto emozionato perché non me l'aspettavo. Poi giocare avanti 25.000 tifosi è difficile per una prima. Poi durante la partita ho cercato di giocare semplice per prendere fiducia. E poi è andata da solo. Ho lavorato tanto sulla fase difesa con il mister Migliani. Ogni tanto chiedevo pure a Puccino di come ammigliorare. Ammigliorarmi sulla fase difesa. Mi hanno aiutato tanto. E ringrazio loro. Io mi piacerebbe arrivare in Serie A come ognuno di noi. Però per arrivare in Serie A devi lavorare sempre, ogni giorno. E allora queste le parole di Medì Dorval. Insomma abbiamo capito proprio da queste sue dichiarazioni, Filippo, che poi quando c'è un gruppo forte diventa più facile per tutti inserirsi in un contesto squadra e poi anche migliorare in tempi brevi. Quanto ti è piaciuta la sua partita? Mi è piaciuta molto come tutti. Ha fatto le cose che sa fare in modo semplice. Cioè quando ha attaccato ha appoggiato costantemente l'azione senza avventurarsi in dribbling impossibili ma appoggiando la manovra offensiva nel modo giusto e con i tempi giusti. Come si è visto poi in occasione di tre dei quattro e sei gol del Bari. Uno direttamente, due indirettamente. Mi riferisco alla palla poi spizzata da Chettira e al gol al lancio del secondo tempo finalizzato con lo stesso Chettira. E poi grande applicazione nella cosa che magari sa far meno in cui sta progredendo e migliorando però la fase difensiva. Ci sono verificate le circostanze di tempo di luogo perfette tra virgolette nell'incontro col Brescia. Però non una grossa superanza da parte di Mangraviti che è un po' il giocatore che ha incrociato spesso il terzino del Brescia. E soprattutto un Brescia che non ha cercato quasi mai di allargare i due attaccanti e quindi metterle teoricamente in difficoltà il Bari su quello che poteva essere un suo punto diciamo non di forza che con i terzini ma diciamo Brescia ha scelto un schieramento a specchio quindi non allargando gli attaccanti diciamo che le possibilità di soffrire teoriche si sono molto ridotte. Però ormai la partita è passata. Pensiamo alla prossima. Passata è passata qui. Pensiamo subito alla prossima. Insomma come detto in apertura cresce l'attesa anche per questa sfida contro il Venezia. Una partita che sulla carta dovrebbe essere lo stesso emozionante come quelle che abbiamo vissuto soprattutto poi contro quelle squadre di categoria anche quelle come lo è il Venezia insomma neoretrocesse dalla Serie A. Un Venezia che è astentato diciamo così ad inizio campionato ma che sembra in ripresa anche dopo il 4-1 in casa del Cagliari nello scorso turno. Che partita ti aspetti? Sì una partita combattuta in cui secondo me bisognerà gestire i vari momenti all'interno della partita perché è una squadra diciamo è possibile che sia un incontro in cui le squadre possono avere alternativamente sopravvento il pari dovrà tenere botta come fino adesso ha fatto egregiamente nel momento in cui magari ci sarà da contrastare le formate offensive dei giocatori del Venezia che si sono esaltati tantissimo nella gara di Cagliari non solo per le 4 reti segnate ma anche per un palo colpito nel primo tempo che stava loro mettendo la partita in discesa prima ancora se poi riuscissero a rimontare il vantaggio iniziale dei padroni di casa. È una gara aperta a ogni risultato c'è grande attesa perché Venezia è sempre stato anche negli ultimi anni un crocevia importante per le ambizioni di un'intera stagione ha fatto scuola ovviamente la gara 2 a 1 di tuta oppure lo spareggio perso a ritorno per scendere in cifra e il bar ha anche guadagnato una salvezza con un gol decisivo di Osmanowski all'inizio degli anni 2000 e l'attesa è certificata da questo flusso infinito di tifosi tant'è che la società di casa ha pensato di destinare l'intera urba nord ai sostenitori bianco-rossi misura che non sia verificata mai l'anno scorso nonostante la partecipazione dei lagunari al campionato di Serie A questo attesta l'eccezionalità dei numeri dei tifosi del bar quando decidono di spostarsi in trasferto ma questo già lo si sapeva. Abbiamo un ascoltatore in linea pronto? Michele saluto l'ospite sono Gianni Dajapiccia Ciao Gianni buongiorno Michele io sento molta euforia in giro per la partita contro il Venezia io ho visto la partita invece Cagliari-Venezia il Venezia è una gran bella squadra e ha un paio di giocatori veramente pericolosi uno è un finlandese si chiama Finis Gompalo ma poi ha giocatori di categoria e giocatori insomma che la palla la sanno ben giocare quindi apriamo gli occhi in questa partita buona giornata A te grazie Gianni grazie per il tuo intervento beh anche come avevi detto prima insomma no Filippo e anche poi il late motive possiamo dire di questa stagione ovviamente con l'ottimo avvio di campionato del Bari si guarda sempre con fiducia è inevitabile che l'entusiasmo possa crescere però restiamo coi piedi per terra ovviamente non dobbiamo essere noi nella condizione poi di sottovalutare gli avversari anche perché poi il Venezia come abbiamo detto prima insomma è una delle squadre neo retrocesse e nonostante l'avvio stentato sembra in ripresa e comunque per forza di cose avrà altri obiettivi e si sarà prefissato altri obiettivi ad inizio stagione certo ha usufruito anche di un budget diverso del famoso paracadute sì sì non solo anche perché è un organico poi proveniente dalla Serie A che dall'avventura in Serie A non era andata bene però presumibilmente attrezzato in misure superiori rispetto all'altra squadra della catetteria è probabile che l'ascoltatore della casa si riferisse a Prozampalo che non solo era un giocatore che si è distinto dal secondo tempo è stato proprio l'attaccante che ha colpito il palo sullo 0-0 prima che poi sbloccasse Mancoso poi comunque la partita prendesse una piga favorevole per il Venezia e l'opinione di un ascoltatore che ne ha viste tante perché evidentemente conosce bene la piazza di Bari e sa che un'oralità detta in senso neutro nel positivo nel negativo della piazza di Bari comporta il fatto che ci si esalti enormemente in periodi positivi come questo che è giusto però godersi fino in fondo e poi a questa euforia corrisponde a un altrettanto elevato battimento quando le cose non prendono una piega che vogliamo io dico una cosa che in questo momento è giusto godersi questo periodo fino in fondo soprattutto quello che è accaduto negli ultimi dueci anni per l'ascesa costante degli ultimi quattro che però il Bari si è guadagnato faticosamente gradino dopo gradino prendere il buono che questa squadra ci dà che è una squadra che ovviamente non è battibile è sempre perfettibile che però è una squadra detta volgarmente ama giocare a pallone sa giocare a pallone è una squadra che gioca sempre palla a terra di cui i tifosi del Bari possono andare assolutamente orgogliosi questa è una cosa che non sempre è avvenuta nel corso dell'ultimo ventennio quindi anzi è avvenuta rare volte quindi è un ottimo punto di partenza anche per fidelizzare e far innamorare i giovani tifosi che si stanno facciando in massa allo stadio Filippo 30 secondi alla chiusura di trasmissione oggi nel Tibisport lanceremo il consueto sondaggio settimanale la domanda che rivolgeremo quest'oggi sarà quale Bari del passato ricorda questo attuale vuoi essere il primo velocemente a partecipare quindi inauguro io il sondaggio inauguralo tu sì per me è un pezzo unico questo Bari se proprio devo scegliene uno scelgo il Bari di Materazzi 93-94 perché aveva il mix tra giocatori che in B avevano già dato qualcosa avevano già dimostrato qualcosa e ragazzi promettenti che non avevano il grande pedigree alle spalle perfetto, perfetto sono anche tenuto in 30 secondi eccellente infatti siamo giusto in tempo per chiudere grazie a Filippo Fasano giornalista del Corriere dello Sport per essere stato con noi questa mattina grazie a voi e un saluto ai vostri spettatori per la regia di Televari ringrazio Federico Semplice e Giuseppe Lorusso per quella di Radio Bari Paolo Gentile grazie anche a voi per la cortese attenzione appuntamento con lo sport che torna come sempre alle 14.35 lo sport è stato presentato da conserva trasporti e logistica